Gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio e i cartoni per bevande sono al centro dell'economia circolare. Proteggono i nostri cibi e prodotti, ci facilitano la vita e se riciclati non impattano sul nostro pianeta. Fai anche tu la tua parte, puoi differenziarli in un unico sacco tutti insieme. A separarli e a riciclarli ci pensiamo noi. Ricorda, non serve sciacquarli. L'importante è che siano vuoti e se è possibile, schiacciali. Gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio e i cartoni per bevande. La sostenibile leggerezza del riciclo per un'economia sempre più circolare.